Ciao a tutti ragazzi, io sono Tasei e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Allora, in questo episodio abbiamo ucciso Land, cioè abbiamo ucciso l'Ender Dragon e abbiamo conquistato l'In-Land Allora, come vedete qui dentro ho dei Lender Liri, che poi sono quelli che ho preso da Land E ci serviranno perché serviranno per piantare i nostri piccoli e amati oggettini Però prima di far questo ragazzi, devo fare un paio di cosette Allora, sicuramente una cosa da fare è mostrarvi che cavolo devo fare qui sotto Per poterlo fare devo recuperare degli oggetti, magari, tipo, recuperiamo prima questi minerali che mi servono, ok Devo recuperare degli oggetti carini, sono deciso però da quale usare Infatti abbiamo sia la Mind Factory, sia la Ender.io per fare questa cosa E io penso che al momento sia più opportuno usare la Mind Factory, la Ender.io Perché, sostanzialmente, come vedete lì sotto c'è scritto che è uscito un update Che io devo ancora fare per la Mind Factory, quindi voglio aspettare di fare l'update per poter costruire Quindi faremo da questa parte e da questa parte l'Ender.io, una farm di Ender.io, ok? Perfetto Per farlo abbiamo bisogno di un paio di cosette, vediamo qui, Ender.io Ok, ci scriviamo Ottimo, e vedete che abbiamo un sacco di cosette belle E quello che a noi serve, sinceramente, è... dove sta, dove sta, dove sta? Eccolo qui, il nostro Farming Station, carino e coccoloso Che è molto, molto utile E dobbiamo farlo in questo modo Si verrà a fare i pulsati in crystal Ci verranno un sacco di pulsati in crystal Quindi devo farvi un paio di questi ingot Che si fanno con ferro e quello Non è che abbiamo un paio di robe Ehm, Iron, no, Iron, ok E Ender Perfetto Ok, andiamo lì Bam, 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 bam Ok, intanto che recuperiamo un attimo questo Octadid Ehm, me ne servono 4 Penso bassino, sinceramente Ok E quindi facciamo i nostri bellissimi pulsati ingot Che ci serviranno per potermi fare con queste cose Devo farmi anche un bel po' di Oh, di diamante Che sono quelle più resistenti Quindi penso sia la cosa migliore E oltre a questo devo farmi anche un'altra cosa carina e coccolosa Ovvero, vediamo se riusciamo a trovarlo Qui, il nostro Enchanter si fa con Dark Steel Quindi è una cosa abbastanza semplice, in effetti Facciamone 4, va Allora, l'ho fatto i 4, ok Avere fatto uno in più fa nulla 5 Ok E dobbiamo quindi fare i nugget Dai nugget poi ci avremo la roba che vogliamo Ho fatto 5, adesso vi abbiano 6, sinceramente Facciamone 4, va Ah, qui ci servono 4, solamente 3 E 4 Perfetto Buttiamoli qui dentro Ci facciamo quindi il Farmer Che richiede Electric Steel Dovrei vedere lo Steel E facciamo anche due di queste hoche Sono interessanti Facciamone 3 e 4 Perché due le userò più tardi Ok, dovrei avere tutto Oddio Slice and Splice Cosa cavolo è sta roba ragazzi Abbiamo delle zombie head Dovrei avere Oh, vale Ce n'è un sacco di zombie head Oddio Dovrei farmi questa cosa che non ho mai capito Non so nemmeno cos'è Vi giuro ragazzi Non ne ho la minima idea Si chiama Splice 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 Oh Si fa con Ok Machine chassis Di qualsiasi tipo Ok Qualsiasi tipo oppure No Ok Ah, ho le Enderman E vi faccio quello normale Oppure le altre test Vede, vede Eh, diamo head Ok, test normale Quindi mi sa che sono costato a fare forza questo Dovrei farcela No, non ho abbastanza roba Devo farmi uno di questo Ok, basic control Uno di questo E mi servirà se non sbaglio Il gold Ok E Della soul sand Ok, eccola qua Perché mi servirà a fare quei lingotti marroni Che io so già al crafting Perché tipo l'ho visto Perché mi interessava per alcune cose E devo farmi quindi un paio di questi Mi serviranno Due Tre, quattro Cinque No, che non è se ne va Oddio No Soul glass mi ha fatto Ok, dovrebbe essere così Vediamo un po' cosa mi fa Giusto? Si, ok Mi ne ha 81 Me ne fa Oddio Che brutta cosa Ok Eh, sto Soul glass Soul glass Ma che cavolo Che se ne fa una persona dire Soul glass ragazzi Davvero What? Vabbè Sombra cosa carina Quindi, boh Facciamolo Ok, quattro Beh, quattro sarebbero già abbastanza In effetti Ok Wurr Saltiamo come se ci fossi un domani E quindi facciamo questa roba Perfetto Ah, devo farmi anche Uno di questo Ok, facciamo ne due Mi servono E uno di queste No, due di queste Uno E due Perfetto Allora, uno e uno La mettiamo dentro E poi bam Ok, questo Questo Cinque me ne servivano Wow Ok Eccolo qua Slice Qualche cosa E li andiamo a posizionare Dove c'è energia Oddio Sta arrivando la notte Sta arrivando Brutta cosa E facciamo così E facciamo così Prende un attimo La nostra Vabbè Possiamo pensare anche qua In effetti Dovete Buttiamo questo Ok E arriva l'energia Perfetto Uno e due E dovrei farmi E dovrei farmi Vi ho detto Farmer Dove essere Ah, farm Farm Ok Farm station Ok Mi servirà quindi Farmi questo Fa una testa Due silicon Una stronzata Con di silicon Due di silicon Ok Head Eccola qua Della redstone Ok E Cos'altro Servivano Due lingotti Giusto solamente No Due lingotti Sia una testa Ok Perfetto Andiamo un po' Dovrei aver fatto Altri lingotti Speriamo un altro Lui ce la facciamo Ah poi c'è uno o tre Che culo abbiamo avuto Tanto va Non proviamo a fare La soul sand Uno due Questo qua Bam E a due Me ne servono È vero Ok E Come faccio A farmi la soul sand Un bel problema No Andiamo un po' Farmi la soul sand Soul sand Si può fare con Time and soul Oppure Silicon Lead Oxygen Eberillium Non è troppo complicato A sto punto L'hanno a prendere tranquillamente Se avevo la possibilità E a sto punto L'hanno a prendere Mi sa che è la cosa migliore da fare Comunque abbiamo un ottimo Uno di questo Ok E possiamo farci quindi La farming station Farm Farm Ok Eccolo qua Bam Cosa ci serve Ah Electrical steel Che si fa Ok giusto Silicon Me ne servono Vabbè facciamo Tipo una decina Ok dieci Poi mi serviranno Dieci iron Vabbè ci abbiamo questi Ok dieci E Coal Questo qui Perfetto Andiamo a bruciare anche questa roba E Tadam Nostra farm Carina coccolosa Pronta Ok Ci facciamo un paio di questi steel E poi Dovremmo avere tutto necessario Per poter fare L'emma farm Ok Mi servirà dell'energia Sicuramente E una cosa che devo fare ragazzi Sicuramente Cambiare I cavi Che sono qui sotto Perché quei cavi iniziali Sono buoni Sì Però Iniziano ad essere Un po' Troppo pochi Per tutta l'energia Che portiamo Quindi Magari Andiamo avanti Con i nostri conduit E facciamo un reso Questi qua O questi qua Direttamente Io penso che Non rimuoviamo per questi Però Mi servirà sicuramente Dell'enderpearl Quindi una farm di enderpearl Mi serve al momento Tantissimo Comunque Facciamone fare Quante ne vogliamo Di questi E magari Iniziamo a farci Poi vediamo Di usufruire In altri modi Ok Dover farmi Allora farm Mi serve un altro Di quel conduit lì Quella non Non lo fa più Non lo fa più Ok Guardate Ok Guardate che Non li prendiamo Comunque Ok Uno due Uno due Uno di questo Bam E quindi ci facciamo Anche questo E magari poi Ne facciamo un altro Mi sa che forse È meglio fare quella La mine factory Più veloce Più Molto più veloce Ok Ci servirà Oh Perché è sceso così giù Ok Per la nostra farm Mi servirà adesso Soltanto della dirt E delle torce Per il momento Sì magari mettiamo Le torce normali Di glowstone Scendiamo giù E andiamo Da questa parte Da questa parte Sì va Facciamo questa parte Uno due tre Ok Dobbiamo andare Più o meno Non so quanti blocchi Sinceramente Però per il momento Ok facciamo queste torce Andiamo più o meno Non tanto distanti Penso così Vada benissimo Magari se Se prendevo Il nostro piccolo hammer Facevamo prima Perché così Fascevo scavare Tre per tre Anche perché La cosa è tre per tre Penso che non sarà Più grande di così Perché tanto Lo possiamo espandere Comunque di larghezza Se vogliamo Senza tanti problemi Sì tanto Poi scendiamo giù In caso voglio farci Qualche altra cosa E questa qua Andrà nel mezzo Qui Ok Ok Allora c'è Allora c'è Allora c'è Allora c'è Tutto Facciamo così Facciamo Dirt Dirt Ok Sì sono tipo parenti a casa Che gridano Tra cui mia madre E Allora Mettiamo l'acqua dentro Qua ci metteva dell'acqua adesso Ok Ok Devo metterci la pala Giusto Se non apri una pala Da sopra Pala Pala dove c'è Sei pala La ho 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 Eccola con la nostra Ho Oddio ce ne ho Perché ce ne ho tre di ho A caso Boh Ok Mi servirà la ho Mi servirà del water Acqua E bucket Oddio ce ne ho un po' di acqua Qui fuori mi sa Eh sì qui fuori ce l'ho Vicino alla farm No un po' di acqua ragazzi Secondo secondo Ok E Ah qui sì I cavi sono fuori Perché come ricordate Tipo dobbiamo mettere In qualche parte No Non lo ricordate voi Perché io non ve l'ho fatto vedere A voi Comunque Senzamente perché ci servivano Per alcune cose Quindi non ho fatto A metterli fuori Però Tranquilli perché Poi faremo dei Delle cover Perché ci sono Dei chisel cover Quindi tranquillamente Non avremo problemi Da quel punto di vista Mi serviranno quindi i conduit Dobbiamo farli scendere Da qualche parte Però Ci sono tranquillamente ora Ok Eh Non ti può farli scendere così Ah no Penso più da questa parte Sapete No vabbè Da questa parte Da sotto No Non posso farli scendere Da sotto Farli scendere Forse dal lato Ok Wow Proprio Che culo Eh però di qui Si vedrebbero Quindi magari Facciamo di qua Ok Ok Perfetto E Quindi da questa parte Facendo in questo modo Dobbiamo un attimo Farli passare Uno da qua sotto Ancora Ok Non dovrebbe vedersi Facciamo così Perfetto E ci mettiamo La nostra piccola cosa Qua Poi ci mettiamo Questa moon rock Per il momento E tadan Ok L'energia arriva Perfetto No seed C'ha ragione Perché in effetti Non c'ha seed E devo metterci Per il momento Direi Oddio Qua devo mettere Delle torce Ragazzi Perché davvero Non abbiamo luce Devo fare un impianto Di luce Qua vicino Adesso mettiamo Le torce Perché Di notte Non si vede Davvero nulla Ok E Allora Dicevamo Dobbiamo farci Quindi magari Dei And Questi qui Gli ender core Su cui cresceranno Tranquillamente I nostri piccoli Alberi No Non prove Nemmeno questi Sicuramente Avrebbero questi Ender infused Giusto E Bentoria Sì Sono questi Stanto che Anzi L'ender core Devrebbe essere Quelli migliori Forse C'è un ender infused Per il momento Obsidian Non abbiamo obsidiana Non abbiamo obsidiana Oh mio dio Davvero Ma Ci sarà un paio Di obsidiane Ok Adesso mettiamo C'è allora Tranquillamente Dei piccoli Dove stanno Dove stanno Questi qua Questi raspberry Ok Faccio vedere come funziona Tutto quanto Poi magari Facciamo crescere anche Il nostro Piccolo Eccolo Ok Guardate come è fatto Da solo Ha fatto Ok Possiamo atteggiare anche Potenziamento Come normali I macchinari E tranquillamente Possiamo sfruttare anche Il fatto di poterli Far uscire da qualche parte Da sopra per esempio Facciamo così Possiamo dire da sopra Guarda tu devi far uscire La roba Mettiamo che ne so Push da sopra Push and pull E possiamo applicare Lo stesso meccanismo Qui sopra Potremmo tipo mettere Ne so I cavi delle me Tranquillamente Però lo vedremo Presto Magari E una cosa Che voglio fare Al momento E prendere Le enderlili Farli crescere Su questo Enderstone E quindi magari Facciamo anche qui sotto Facciamo questi save Ok Ok Metterete caduto Vediamo che non credo Vicino a me Eccolo vicino a me No Non penso Ah no Eccolo lì Eccolo lì vicino Guardate questa parte Non viene colpita Quindi è una buona cosa Forse c'è tipo Proprio una cosa Che non li fa colpire E questi enderlili Ragazzi Non possono Migliorare Cioè possiamo sì Migliorarli Però non col fertilizer Ma possiamo usare Il nostro Watering can Questo qui Che non è empty Scegliere come funziona Quindi basta fare così Adesso vabbè Che non le particelle Attive però Faccio il video setting C'è uno Decreced Vedete un attimo Che sta crescendo Pian piano Cosa vedete Crescono abbastanza Più o meno Velocemente Crescono però Ancora più velocemente Se messi Su quei core Che abbiamo Vi ho fatto vedere Tipo prima E sono molto più fighi I core Però richiedono Tantissima roba A proposito Una cosa che volevo fare Prima di chiudere l'episodio L'enchanter ragazzi Vi avevo detto Perché quello è davvero Bello 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 E si fa col darksteel Giusto? Vabbè Tanto abbiamo fatto Darksteel Sì Non dovrebbe esserci problemi Enchanter 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 Da Oddio Abbiamo fatto lo steel Ah Questa è l'electrica Stile Ok il darksteel Come si fa? Ah Ossidiana Coal Obsidian Merda Non ho ossidiana ragazzi Come si crafta l'ossidiana? C'è un modo Sì Penso di sì Ok Un'idea Un'idea ce la potrei anche avere Di come si crafta l'ossidiana C'è un testo punto Volete vedere? Volete davvero vedere Come si crafta l'ossidiana? No problem ragazzi Abbiamo qui Un piccolo coso Chiamato Loudrum Che noi Butteremo Faremo qua Facciamolo qua Non è un problema Ok Facciamolo qua Bam Ossidiana Mi piace il nostro Generatore Ossidiana Molto Veloce Molto carino Solo che tipo Un po' complicato Da craftare Ok Vedete abbiamo Due bellissimi Fantastici blocchi Blocchi di ossidiana Che si rompono Come se ci passano domani Dovrebbero bastare? No Cinque me ne servono Ok Uno e Uno e due Uno e due Ottimo E diciamo Quando Mancano le risorse Vogliamo usare Le cose un po' più semplici Ok Prendi l'acqua Tiriamo tutto Perfetto Ok La gente è pazza A casa mia Ragazzi Io mi arrendo La pazzia è Forviante Va bene La pazzia è forviante Forviante Ok Lasciamo stare questa parte Andiamo qui Vediamo un po' Fatemi ne ha fatti Ah Ok Mi ha fatto un paio di cosetti inutili Si verranno Cinque pezzi di Iron Devo farmi la cosa Per andare a dormire Presto ragazzi Mi spaventa davvero un sacco Stare qui fuori Al buio Che sono dentro poi Però Qui fuori è comunque brutto Oddio questo Dark Oh Empowered Travel Spoon Travel Oh wow Fa anche fare Territrasporti Ok Dark Steel è molto complicato Da fare Perché ci mettiamo In infinità A farlo Però Però fa nulla Ok Mi serviranno quindi Questi cinque E Nel nostro Enchantment Possiamo farci Delle enchanting Tranquillamente Mi serviranno però Delle feather Probabilmente Feather Non ce le abbiamo Dobbiamo farcele Dobbiamo farci comunque Dei book and quill Che sono molto semplici Come sapete In questo modo Mi servirà però la feather In qualche modo da fare Nitrogeno e acqua Nitrogeno si fa Tipo tranquillamente Anche da Da qualsiasi cosa Si può fare Dai libri o Dai libri Dovrei un sacco di libri Dovrei avere Oddio quanta roba Cos'è quella cosa 64 Dark matter arrow Oh mio dio Che figata C'è pure le recipe Che in teore Non sono state ancora messe Cos'è cosa I dardi Perché i dardi Oh mio dio Eh Questi cinque blocchi Richiedono comunque Holy stone Comunque un paio di cosette Si possono fare Tranquillamente La cheratina La cheratina si fa Dalla qualsiasi cosa Che abbia del legno Penso Insomma Tante cos'è Per esempio Questa cheratina Si prende sì Dal leather Ok Beh Comunque ve lo vedremo In futuro Come funzionerà La La mine sham Che è molto bella Come mod Però dobbiamo farla Se no Non possiamo farci Tante crafting Più veloci Ora Così dovrebbe andare bene Perfetto Erano quattro Ne erano cinque Ok Abbiamo il nostro bel enchanter Che va Data corrente A quest'ultimo Beh lo mettiamo qua Dove è il mio hammer Hammer Eccolo qua Crescent hammer Buttiamoci magari Questa roba qui dentro Perfetto E bam Vai via Tiamoci questa cosa qua Perfetto E ci mi serve Book and quill Penso noi ne abbiamo Book and quill Eh no Infatti abbiamo dei book Però non abbiamo Book and quill Davvero Che merda Non avere una feather Ehm Hag Ragazzi potremmo essere Fortunati A far tipo Uscire dei polli A casa Pollo Tu crescerai E diventerai un book and quill Lo sai vero Spero di si E Bene intanto ragazzi Allora per questo episodio vi saluto Ehm Ah Faccio dei crafting Quello si Quello posso farvi vedere Possiamo farci protection Protection Blast protection Feather protection Ehm Torn Sacco affinity Insomma c'è un sacco di cosi Fortuna Unbreaking Con la redstone Se non sbaglio Facciamo efficienza Più redstone mettiamo Più l'efficienza aumenta Quindi una figata pazzesca Ragazzi E quindi come vedete Possiamo farci tutto ciò che vogliamo Luck of sea No luck of sea è inutile Magari fortuna normale Sarebbe utile Si fa il sick touch Con la slime ball Come vedete Possiamo farci un sacco di cosette Però mi servirà anche Gallina Eccoti Ciao Gallina Per l'altro Gallina Tu Salute l'episodio Vero Salute salute Ciao Fai ciao Fai ciao Bravo Gallina E ragazzi Io continuerò a far crescere questo enderperm Che mi serviranno E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Allora fate buona la nostra piccola Questa sta crescendo Poi pian piano Migliorerà E tutto quanto E vedremo un attimo Come sistemare tutto quanto Per il momento Comunque vi saluto E ciao ciao Ciao